Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone. Auguri di buona Pasqua da parte di tutto lo staff di Starshop Napoli. Volevo consigliarvi qualche lettura pasquale per ingannare il tempo in questo periodo. Abbiamo Bloody Monday, editato da Star Comics, di Ryuriumon e Koji Megumi. È un thriller con protagonista Fujimaru Takagi, che è un ragazzino giapponese conosciuto come Falcon, uno dei più grandi hacker del mondo. La storia è un thriller che parte in Russia con la diffusione di un pericoloso virus mortale. Abbiamo poi Steam Boy di Katsuro Otomo, il papa di Akira e Yu Kinutani. È la storia di Ray James Steam, erede di una famiglia di geni che grazie alla forza del vapore e al suo credere fermamente nei sogni, riuscirà a fare grandi cose nella Londra vittoriana. Dulcis in fundo abbiamo Le bizzarre avventure di Jojo di Hiroiko Raki, seconda serie Battle Tendency, volume 1. Joseph Joystar è il nipote del primo Jojo e dovrà scontrarsi ancora contro il potere della maschera di pietra, perché una vita sola non basta a sconfiggere il male. Per ora è tutto ragazzi, ci vediamo e ancora auguri di buona Pasqua a tutti. Grazie. Grazie.